Il Comune di Avola ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza all'esercizio della raccolta differenziata e istituisce dei punti informativi itineranti nei quartieri della nostra città. La raccolta differenziata è oggi una politica da cui non si può prescindere, in un'ottica di sviluppo ecosostenibile e di rispetto dell'ambiente in cui noi tutti viviamo. Sentiamo le esperienze personali di alcuni avolesi. È una cosa importante, visto quello che vediamo in televisione Napoli, anche Palermo, in Sicilia, per cui ovviamente è necessario farla prima o poi. Se fanno questa raccolta della differenziata per me è una cosa giusta abituarci a restare un paese pulito e civile. La raccolta differenziata sia molto importante per noi cittadini, anche per l'ambiente. Anch'io contribuisco alla raccolta differenziata perché credo che sia giusto mantenere il nostro paese abbastanza pulito e anche per il futuro dei nostri figli. È un'ottima cosa, noi la facciamo da parecchio tempo. Penso che noi cittadini dovremmo abituarci a entrare in quest'ottica e quindi operare la raccolta differenziata distinguendo chiaramente i rifiuti umidi da quelli che possono essere riutilizzati perché è importante ragionare e vivere in questo modo perché aiuta a proseguire nel futuro in un modo molto più sano. La raccolta differenziata fa la differenza e Avola si differenzia.